L'ex presidente del Consiglio regionale Marino Roselli, l'ex sindaco di Spoltore Franco Ranghelli e l'ex vice presidente di Ambiente S.P.A. Luciano Vernamonte sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta del 2011 relativa al comune di Spoltore. Il GUP ha rinviato a giudizio anche altri nove imputati, Luigi Zampacorta, Alessandro Donofrio, imprenditori, Ernesto Partenza, ex assessore all'urbanistica, Pino Luigioni, ex consigliere comunale, Tullio Michele Ernesto Santroni, dirigente comunale, Giuseppe del Pretaro, geometra, Bruno Crocetta ed Emilio di Paolo Emilio, tecnici del comune, Marcello Sborgia, costruttore, nel mirino del PM la redazione del nuovo piano regolatore, l'appalto del servizio di riscossione dei tributi della pubblicità e le sanzioni per le violazioni del codice della strada, l'accordo di programma per l'ampliamento del cimitero, un progetto per la realizzazione di appartamenti nella zona del fiume Pescara. Secondo l'accusa, Ranghelli, Roselli, Vernamonte, Partenza Donofrio e Luigioni, avevano creato un vero e proprio organo decisionale denominato cabina di regia estraneo agli organi istituzionali preposti dall'amministrazione comunale che venivano così esautorati allo scopo di condizionare le scelte amministrative e politiche del comune di Spoltore e consentire affari e personalismi. Gli imputati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, tentata concussione, falso ideologico, abuso d'ufficio. Il processo inizierà il 10 aprile del 2014.